Giuseppe Guglielmi, sono presidente dell'associazione sportiva La Bussola. Sono stato chiamato perché mio figlio mi ha avvertito che c'erano dei problemi per un pescatore sportivo che avevano trovato un'imbarcazione spenta e senza equipaggio. Quindi sono venuto sul porto per conoscere quello che era successo. Ho sentito tutti gli associati che erano in mare o anche un marinario del porto e mi ha confermato che lui ha visto una persona che era poi il pescatore con l'imbarcazione da solo nel primo pomeriggio. Dopo successivamente è stato visto 500-600 metri a largo di Borgio Verezzi nella zona della Varesina da pescatori sportivi che hanno confermato che era in pesca, si spostava ed era tutto regolare. Poi verso sera non hanno visto più le luci di via o di pesca dell'imbarcazione. Sono preoccupati, tant'è che un pescatore professionista ha avvisato gli altri che ha visto l'imbarcazione spenta e non si capiva il motivo. Sono avvicinati, sono saliti a bordo e hanno visto che la barca era senza equipaggio. E quindi hanno avvisato le autorità e la capitaneria che ha preso il controllo dell'emergenza e ancora adesso, al momento, stanno facendo le ricerche del pescatore. Cosa si suppone? Suppone, non lo sappiamo, però tenuto conto che a bordo c'è ancora delle tracce degli occhiali o la cosa non possiamo saperlo. L'unica cosa certa è che la murata della barca, dell'imbarcazione, è bassissima e non permette anche con le gambe di avere un giusto equilibrio. Però non possiamo fare supposizioni, sicuramente se è stata qualche caduta, come? Non possiamo saperlo. Dunque subito il mare era abbastanza, c'era un po' di movimento. Poi è diventato leggermente mosso, ma non era un mare pericoloso, un mare che si poteva pescare, però quando è così basta niente, quando non ci sono appoggi per cadere in acqua e cadere in acqua in questo periodo diventava un po' un problema. Grazie.